È stata un'edizione da record per il trofeo giovanile di pallacanestro Guido Guidelli. La scuola Baschettarezzo ha infatti archiviato la 39esima edizione della manifestazione con un bilancio particolarmente positivo, dove sono stati registrati numeri da primato in termini di presenza in campo e sugli spalti che hanno testimoniato la bontà di un format avvolto ad abbinare sport e turismo. Il torneo Guidelli è riuscito a confermarsi come volano per la promozione e la valorizzazione del territorio, con circa 1.700 persone che per tre giorni hanno soggiornato in 14 alberghi convenzionati e in altre strutture della provincia, garantendo un significativo indotto economico. Le cartine dei plan distribuiti dalla Fondazione Rezzo in Tur sono andati esauriti in poche ore, mentre i volontari della SBA sono stati a disposizione per fornire ogni informazione utile per conoscere le bellezze locali, sostenendo i flussi turistici verso la città e le vallate. Sul piano sportivo, invece, il trofeo ha visto alternarsi in campo un totale di 750 atleti ed atlete di 38 squadre delle categorie Under-13 ed Under-14 provenienti da tutta Italia, che sono stati i protagonisti di 81 partite divise tra 8 palazzetti di 4 comuni, Arezzo, Civitella, Laterina, Pergine e Castiglion-Fibocchi. Gli spostamenti delle formazioni tra i palazzetti, le strutture e alberghiere sono stati curati per la prima volta direttamente dalla stessa scuola Baschetta Rezzo. Un bilancio che dunque permette di guardare al futuro del torneo con particolare entusiasmo e motivazione in vista del 2025, quando verrà giocata la quarantesima edizione.